Oggi è una giornata storica per Sesto San Giovanni, siamo i primi a camminare sulla nuova passerella della stazione a ponte progettata da Renzo Piano. Da domani questa struttura verrà parzialmente aperta, tutti pendolari per raggiungere le banchine, sostituendo così l'accesso tramite quello che è il sottopasso, che sarà poi definitivamente chiuso per mercoledì della prossima settimana, dove inizieranno anche i lavori di demolizione della vecchia stazione, o meglio la cantierizzazione di tutto il progetto di demolizione, lasciando il posto alla nuova struttura che ha una passerella lunga circa 90 metri, che è quella che sto percorrendo io in questo momento, sospesa a 14 metri di altezza sopra i binari, ma soprattutto sarà la cerniera che riunisce le due parti della città, da un lato la Sesto costruita, da dove arrivo io, e dall'altro la Sesto che stiamo progettando e costruendo, grazie a quella che è la rigenerazione urbana delle aree exfalto.